a tutti allora vi devo parlare di una cosa che ho combinato e l'ho combinata un po grossa perché io sono una persona cattiva cioè nel senso se uno mi tocca su certi argomenti diventa anche molto sanguigna e sparo per uccidere questo è chiaro anche se mi rendo conto che le torture sono molto divertenti però ultimamente non c'ho tempo quindi sparo per uccidere allora io me ne sono tornata a casa da 12 ore di lavoro e avevo fatto prima una collaborazione un'intervista diciamo con aldo di italians in fuga dove avevo detto un motivo per cui me ne ero andata via dall'italia dicendo che tra le altre cose in italia ci sono le strade con le buche ma quello non era l'unico motivo per cui ne sarei andata cioè sarei una pazza in questi 30 minuti di intervista ho fatto una piccola provocazione una pazza invece è venuta su una pazza sconosciuta è spuntata non si sa bene da dove e se n'è uscita con la frase ottimo motivo per andarsi nell'italia le buche per le strade mi sono cadute le braccia allora quel livello di come dire acidità e tipica di mio fratello e io mio fratello l'ho massacrato dal dall'infanzia fino ad ora è diventato una persona che non mi risponde più perché sa che ogni qualvolta mi rivolge la parola lui deve stare un po' attento perché io sparo per uccidere se poi ti resti male cazzi tuoi cioè a me non me ne frega niente non non io mi pento di molte cose che mi che faccio sono una persona piuttosto autocritica lo dico apertamente di non avere un minimo senso dell'orientamento ma quando mi si rompono i su queste cose in modo acido in modo cattivo senza che io ti abbia mai fatto niente di male io sparo per uccidere quindi vieno detti di tutti i colori detto della le sue sono braccia strappate l'agricoltura eccetera eccetera però a questo punto non basta perché la devi pagare dieci volte siccome lei se n'è uscita ma tu sei pazza stai parlando da sola perché l'ho proprio massacrata e lei non sapeva più come rispondermi perché evidentemente nella vita non ha ricevuto nessun tipo di educazione pensa di poter attaccare le persone così a cazzo perché lei ha i suoi problemi e quindi pensa di poter dire qualunque cosa e che noi dobbiamo dire sì grazie grazie picchiami e invece ogni tanto ti trovo il tipo che ti fa il culo così però non è ancora finita qui siccome lei rompe i su questo argomento io ho detto va bene adesso ci faccio un video a proposito così almeno la signorina si sente al centro dell'attenzione magari qualcuno la caga finalmente perché visto che viene attaccare a me che ho due iscritti in croce cioè ne hai di sfiga ragazza comunque al di là di questo a me mi sono aumentati gli iscritti ringrazio aldo detto questo i motivi per cui se ne sono andata finalmente dall'italia sono svariati uno dei motivi è stato perché avevo vinto una borsa di studio erasmus perché a me non mi ha mai fregato un cazzo di essere bello sempre un vestito su quello che ho nella testa perché io non ho un carattere estremamente sicuro di sé ma penso di poter imparare le cose questo non mi dà il diritto di massacrare gli estranei quando non mi hanno fatto niente se mi fanno qualcosa il culo viene preparato questo primo motivo secondo motivo è che purtroppo volevo essere o per fortuna volevo essere più indipendente per cui all'estero avevo la possibilità di essere più indipendente e l'ho fatto il terzo motivo è perché ho litigato con i miei genitori e ci sono stati tantissimi problemi in famiglia e ne ho ancora problemi in famiglia per cui voglio dire era un ambiente molto maschilista secondo me e io non sopporto gli ambienti maschilisti questi sono gusti personali un altro motivo per cui sono contenta di essere andata dall italia ma non è il principale motivo è la mancanza totale di servizi che io mamma mia cosa non ho mai fatto ho detto ci sono le buche per le strade ma era per dare un esempio non mi ricordavo neanche più di averlo detto tra l'altro perché ho altro da fare nella vita evidentemente ma c'è chi proprio non ha un cazzo da fare a parte insultare alle spalle e complimenti per l'invidia e la vigliaccheria ma passiamo un altro motivo vediamo un po diciamo che sono una persona molto molto forte da un certo punto di vista nel senso che io ho una mia personalità ben definito sono anche molto sensibile per certe cose ma ho ben chiaro quelli che sono i miei obiettivi davanti di solito so quello che voglio questo non mi ha mai portato a rubare 50 lire da nessuno perché non mi piace fare dei male ai strani che non hanno fatto mai niente di male a me detto questo continuiamo ho avuto nella vita varie esperienze negative come tutti o se ci sono dei fortunati beati voi ma non sono invidiosa beati voi buon per voi io devo fare la mia vita non guardare gli altri ho avuto diverse esperienze negative quindi ho pensato che da un'altra parte magari mi sarebbe andato meglio devo dire che ho fatto bene ad andarmene inoltre un altro motivo non totalmente vincolante non è per quel motivo che sarei scappata di casa all'estero e che volevo fare esperienza con le lingue lo so che si possono fare tantissime belle esperienze online parlando ma io sono andata via più di dieci anni fa per cui anche skype non era usatissimo o meglio sono sicura che molti sapessero usare skype io appartenevo a quella sotto categoria molto imbranata che ancora non c'era arrivata adesso uso skype anche per insegnare per cui mi sono ripresa no ero rientronata mi sono ripresa altro motivo per cui me ne sono andata dall'italia è che ho un carattere per la quale l'uomo italiano si sente o l'uomo medio italiano non sono tutti così si sente un pochino come dire cacciato dal suo oro sono molto indipendente voglio essere molto indipendente o due lavori questo non mi rende superiore a nessuno di voi uomini e donne ripeto uomini e donne o donne e uomini perché qui non si sa mai come parlare però ho chiari i miei punti i miei obiettivi e non sto tanto guardare quello che fanno gli altri non me ne può fregare di meno per natura sono molto asociale poi posso addirittura arrivare a fare dei complimenti sinceri a una donna per esempio io penso che la diva del tubo sia molto indipendente al di là del lavoro che fa perché ha una ditta sua se stante e svolge la sua attività senza necessariamente fare del male a me per cui io la stimo un'altra persona che per esempio stimo non ho avuto mai occasione di dirglielo ma non ho problemi è per esempio una mia collega che sa guidare benissimo un bestione della strada di 40 tonnellate non so come faccia però io la stimo e assolutamente non le augurerei mai niente di male dovrebbe proprio attaccarmi pesantemente a parole e io dovrei essere in un giorno di molto stress detto questo questi sono i motivi per cui me ne sono andata via dall'italia sicuramente ne avrò tantissimi altri e se me ne verranno in mente farò una redizione numero due spero che non mi ripeterò perché detesto ascoltare il suono della mia voce è sì anche io ho le mie sicurezze solo che non le scarico sugli altri perché non sono né completamente egoista né completamente vigliacca e neanche debole ciao a tutti